Eccoci, buonasera, il telegiornale parte con lo scontro a tre atteso e che non ha certo deluso le aspettative. Alla Camera c'era il Premier Time, ovvero il Question Time in cui parlava, rispondeva direttamente il Presidente del Consiglio e a fare le domande o a replicare erano anche i due leader principali dell'opposizione, Schlein e Conte, quindi è nato quello che si può definire un triello fra queste figure che, come si sa, catalizzano l'attenzione della politica italiana. Ebbene, possiamo dire che gli scontri siano stati, poi valuterete voi chi è andato meglio e chi è andato peggio nel nostro ampio servizio, però sulla questione della sanità su cui attaccare è stata Schlein, sulla questione del patto di stabilità dei numeri italiani in cui il duello è stato tra Conte e Meloni, con evidente e non imprevedibile citazione dei danni del super bonus e poi anche sulla politica internazionale. E lì è stata Meloni a spiegare che il governo italiano non condivide la posizione di Netanyahu per l'Italia, così come per l'Europa e per gli Stati Uniti, deve sorgere al termine della guerra uno Stato palestinese che riconosca e sia riconosciuto da Israele. Ma come vedremo, proprio sulla politica internazionale c'è stato un altro fatto che poteva essere clamoroso e nelle premesse e forse anche in qualche conseguenza lo è tuttora. Perché la Lega questa mattina ha presentato con il suo caporupo al Senato Romeo un ordine del giorno che di fatto sconfessava la linea di totale aiuto e difesa e schieramento dalla parte dell'Ucraina nel conflitto con la Russia, dicendo che visto l'andamento del conflitto, visto il fallimento della controoffensiva aveva senso semmai dedicarsi alla ricerca della pace. Non a caso questa ordine del giorno aveva già ricevuto l'assenso e quindi la volontà di voto anche del gruppo del Movimento 5 Stelle. Riedizione, hanno detto ovviamente i meno benevoli al riguardo, della maggioranza del governo Conte 1. Poi ovviamente è intervenuta la stessa Meloni probabilmente, sicuramente le altre forze della maggioranza, sicuramente il ministro della difesa è Crosetto e quell'ordine del giorno è stato ampiamente modificato, ma resta questo passaggio. Proprio nel giorno peraltro in cui le due vicende, la guerra d'Ucraina e la guerra del Medio Oriente, vivono elementi importanti, vivono episodi importanti. Belgorod, occidente della Russia, vicino al confine con l'Ucraina, abbattuto un aereo militare, un Ilyushin 76 con a bordo e qui divergono sostanzialmente le versioni. Secondo i russi 65 prigionieri ucraini, prigionieri di guerra che quindi sono rimasti uccisi e forse dovevano essere scambiati nei prossimi giorni. Secondo invece Kiev a essere abbattuto è stato l'aereo che trasportava missili da utilizzare nella guerra sulla prima linea del Donetsk. Quindi questo evidentemente è il quadro di un atto che comunque segna un passaggio importante nel conflitto. E poi Medio Oriente, ci sono un turbine di incontri di ogni tipo, il leader turco con quello iraniano, ma anche la missione del nostro ministro degli esteri, vicepremier Tajani, Libano, Israele e Palestina, per cercare di riannodare il filo per arrivare a un cessato il fuoco. Ci si era vicini, secondo molte fonti, e può darsi che la cosa possa tornare di attualità nelle prossime ore. Ma come vedremo ci sono molti altri fatti. Trump ha vinto la notte scorsa delle primarie nel New Hampshire, ma Nicky Alley è vicina e quindi potrebbe anche proseguire e infittire il suo ruolo di antagonista del ex Presidente in campo repubblicano. Ma ci sono le altre storie italiane. Quel che succede nel nord-est con Fleximan, così si firma colui che, o coloro, chissà chi, di che si tratta, che stanno abbattendo gli autovelox nelle strade del nord-est del Veneto. Già 14, se il nostro conto non è sbagliato, sono stati abbattuti. E poi, contemporaneamente, in quelle stesse strade e in Emilia Romagna, la disfida dei 30 all'ora. Tutto questo e l'altro tra un minuto. La seconda volta da Premier al centro del botta e risposta alla Camera. Di fronte aveva i due principali leader dell'opposizione, Schlein e Conte. E l'appuntamento è diventato un vero e proprio braccio di ferro verbale. La segretaria PD offre un anticipo del duello TV e attacca sulla sanità. Meloni risponde che eredità dei governi di centro-sinistra. Schlein affonda una replica. Lei fa opposizione e non risolve i problemi. Turissimo anche Conte, che critica le risposte di Meloni su patto di stabilità e superbonus. Lei è una remida al contrario, dice, ma lei lo aveva attaccato gratuitamente. Ma la Premier risponde anche sulla politica estera e riafferma il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato alla fine della guerra. Netanyahu sbaglia, dice la Premier. Divergenze rientrate con la Lega sulla conversione del decreto per la proroga degli aiuti militari all'Ucraina. Un ordine del giorno a firma del capogruppo al Senato Romeo chiedeva al governo di impegnarsi in Europa per promuovere iniziative diplomatiche visto il fallimento delle soluzioni militare. Plauso e immediata disponibilità a firmarlo dal Movimento 5 Stelle, ma poi interviene il resto della maggioranza e il testo viene ampiamente riformulato passando al Senato. E c'è la guerra vera e propria perché c'è uno scambio durissimo di accuse tra Mosca e Kiev dopo l'abbattimento di un aereo da trasporto militare russo precipitato stamane nella regione di confine di Belgorod vicino alla frontiera ucraina. Le forze armate di Kiev ammettono di aver abbattuto il velivolo, ma le rivendicano il fatto di avere colpito un bersaglio che trasportava missili. Per Mosca invece a bordo c'erano 65 prigionieri di guerra ucraina. Resta alta la tensione anche in Medio Oriente, nonostante la fitta rete di incontri per tentare una mediazione. Anche il nostro ministro degli esteri italiani è in azione con una missione oggi a Beirut, domani in Cisgiordania e a Televi. Chi è Fleximan? Il misterioso giustiziere, così si autodefinisce, ma in realtà è qualcos'altro, vandalo che abbatte gli autovelox nei centri del nord. Ma c'è anche la questione dei 30 all'ora in città. Sono i due casi che creano un cortocircuito con comuni, sindaci e ministero. L'attesa direttiva dei trasporti sulla mobilità boccia il limite dei 30 all'ora in tutto il territorio urbano, adottato dal sindaco di Bologna Lepore con tanto di polemica proprio col titolare dei trasporti Salvini, che circoscrive solo ad alcune strade. Lepore e il ministro si sono parlati in videoconferenza, ma intanto la situazione resta caotica. Il popolo sardo, campioni e tanti altri giocatori e istituzioni non solo dello sport. 30.000 persone a Cagliari sul Sagrato della Basilica di Bonaria. Per l'ultimo saluto a Gigi Riva. A sorreggere il feretro due campioni del mondo come Cannavale Buffon. indelebile scelta di vita. C'era scritto su uno striscione a sottolineare il legame tra il campione e la gente della sua terra d'adozione. La gente che gli ha dato una famiglia qualcosa che non aveva quando è arrivato. Le parole del figlio Nicola in chiesa. Buonasera a molti fatti e un'attesa che non è stata certo delusa. Quella nel confronto diretto, domande e risposte alla Camera, il Premier Time, il Question Time, quando a rispondere è direttamente il Presidente del Consiglio. Per questo ovviamente si sono mobilitati anche i leader delle opposizioni. Ne è venuta molta sostanza, ma ovviamente anche molta forma, nel senso che tutti sapevano di parlare a portata di telecamere, nel praticamente calcio d'inizio della campagna elettorale che porterà l'8 giugno alle europee. L'aula di Montecitorio è quasi piena, c'è il governo quasi al gran completo, mancano l'appello i due vicepremi a Tagliani e Salvini, al centro della scena a Giorgia Meloni, per la seconda volta da quando guida il governo impegnata ad affrontare il Question Time alla Camera. Stavolta si troverà di fronte i due leader principali delle opposizioni, la segretaria PD Ellie Schlein, scelta come avversaria per un prossimo duello TV, e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, con il quale si è scontrata duramente in aula a dicembre sul MES, con tanto di convocazione del giuridonore, che dovrebbe a breve fornire le sue conclusioni. La formula del Question Time dà all'interrogante il vantaggio della replica, la Premier deve anticipare l'attacco in quello che si trasforma in un triello. Ellie Schlein interroga su Italia la sanità e il problema delle liste d'attesa, non risponda che potevamo farlo noi, io al governo non ci sono ancora stata e lei governa da 16 mesi, premette Schlein, fornendo comunque un assist alla Premier che non se lo lascia sfuggire. Ci troviamo a fare i conti con una situazione che si è stratificata negli ultimi 14 anni e non le dirò perché non l'avete fatto voi, le dirò, collega Schlein, che considero un'implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo. Grazie per fidarvi di noi, grazie per fidarvi di questo governo. La replica della segretaria PD è sulla stessa falsa riga. Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri? No, mi faccia capire perché io ero stata più delicata di lei, non ho citato l'anno in cui è stato adottato quel tetto alla spesa che si rifà ai livelli del 2004. La ragione lei era il 2009 e sa chi era ministro di quel governo? Lei era ministra di quel governo. Quindi questo specifico problema l'ha creato lei e non certo noi. Ancora più aspro lo scontro con i 5 Stelle e il capogruppo Silvestri a fare la domanda sulla riforma del patto di stabilità dettata da Francia e Germania che per conto si è trasformato in un pacco di stabilità che costerà agli italiani 12 miliardi l'anno. Meloni risponde che era la migliore intesa possibile alle condizioni date, rovesciando la responsabilità sui governi presiduti da Conte e soprattutto sul superbonus. E se noi nonostante questa eredità pessima siamo riusciti a portare a casa comunque un buon compromesso è perché in questo anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita. A replicare l'ex premier che rinnova il suo duello personale con l'attuale inquilina di Palazzo Chigi. Ma lei cos'è? Un remida al contrario. Lui tutto quello che toccava trasformava in oro. Lei tutto quello che tocca distrugge. Ci fa una cortesia? Faccia anche meno. Può essere che farà meno danni e gli italiani li verranno grati. Grazie. Il resto del question time scorre senza grandi sussulti. Maria Elena Boschi per Italia Viva in un altro duello tutto al femminile bolla Meloni come la presidente delle tasse. Il leader di sinistra italiana Fratoianni incalza la premier su Israele e su come fermare il massacro a Gaza. Dobbiamo rafforzare la nostra storica capacità di dialogare contestualmente con Israele e con il mondo arabo e lavorare per promuovere un'ulteriore tregua risponde Meloni. Infine Stellantis, azienda verso la quale Meloni aveva già avuto parole dure due giorni fa nell'intervista a Quarta Repubblica. L'interrogazione di Richetti per azione e sul futuro della ex Fiat in Italia Meloni e Secca. Il gruppo Fiat rappresenta un patrimonio economico che merita la massima attenzione e questo significa anche avere il coraggio di criticare alcune scelte del management del gruppo quando sono state distanti dall'interesse italiano. Un'accusa che fuori dall'aula viene contestata da una nota dell'azienda. Stellantis è fortemente impegnata in Italia e lo ha fatto negli ultimi anni. Chissà quanto andrà avanti la disputa tra ex Fiat e Palazzo Chigi, ma in realtà si è parlato molto anche di questioni medio orientali, come abbiamo sentito. In realtà il governo riafferma la distanza dall'idea di Netanyahu per quanto riguarda il dopo guerra di Gaza. Per l'Italia così come per l'Europa e gli Stati Uniti ci vuole la nascita di uno Stato palestinese riconosciuto e che riconosca lo Stato ebraico, che riconosca Israele. Ma poi c'è stato oggi in tema di politica internazionale uno scarto improvviso della Lega. In gran parte è rientrato, ma che qualcosa significa. Nessuno può vincere la guerra, è necessario un percorso diplomatico per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. I sostegni militari a Zelensky sono stati essenziali, ma non sufficienti per neutralizzare la minaccia russa. La controoffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i risultati attesi, l'opinione pubblica italiana non supporta più pienamente gli aiuti e l'esercito ucraino. Lo scenario tratteggiato non arriva dall'opposizione, bensì nero su bianco, dalla Lega. Tutto nell'ordine del giorno presentato questa mattina da capogruppo Massimiliano Romeo al Senato, dove si riscute il decreto del ministro della difesa Crosetto per prorogare gli aiuti all'Ucraina. Una presa di distanza netta e clamorosa dall'esecutivo, dal sostegno dell'Ucraina fino alla vittoria, che è la linea di Giorgia Meloni dall'inizio del conflitto, in sintonia con gli Stati Uniti e l'Europa, Orban escluso. Un'autentica sfida sul terreno della politica internazionale, in cui molto la Presidente del Consiglio si è spesa per ribadire la collocazione atlantica, senza tentennamenti del suo governo. Il documento della Lega trova subito il plauso dei Cinque Stelle. Chiederemo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno e voteremo a favore, annuncia il capogruppo a Palazzo Madama dei Pentastellati Stefano Patonelli. E quello di Italia Viva Enrico Borghi incalza Meloni. Il testo sembra scritto da Giuseppe Conte, forse vedremo rinascere l'asse giallo-verde tra Cinque Stelle e Lega. La Presidente del Consiglio condivide queste parole. Domanda retorica. Palazzo Chigge è irritatissimo. È stata una mia iniziativa, sono pronto ad accogliere una proposta di riformulazione, dice Romeo, che ha scritto che si chiede un disimpegno in Ucraina, ha cercato di tirarmi uno scherzetto. E la riformulazione arriva a stretto giro. Spariscono i riferimenti alle parole di Crosetto sulla controoffensiva ucraina, all'opinione pubblica italiana poco entusiasta, degli aiuti. Resta l'impegno per la diplomazia, ma per giungere a una pace nel ripristino del diritto internazionale, ovvero con i confini precedenti e l'invasione russa. Una marcia indietro. L'ordine del giorno passa con 110 sì, quelli della maggioranza e del PD, e sette astenuti, i senatori d'Italia Viva. Alleanza Verdi e Sinistra e Cinque Stelle non hanno partecipato al voto. La Lega non ha fatto una semplice giravolta, ma un autentico giro della morte. Gli uomini di Salvini sono stati rimessi in riga, commenta Potonelli. Resta evidentemente questo passaggio, ma questi sono i commenti, le prese di posizioni, o se volete gli aggiustamenti in tema di rapporto con le due guerre. Poi ci sono le due guerre vere e proprie. Oggi, come avete visto dai titoli, dalla guerra d'Ucraina arriva anche la notizia di un abbattimento su cui c'è anche guerra di dati e di notizie tra Chieve e Mosca. Di certo ci sono solo i rottami di un aereo sparsi sulla neve della campagna di Korocianski e un numero di vittime ancora non chiaro. Sono i resti dell'Iliushin 76, caduto nella regione di Bielgorod, territorio russo, al confine con l'Ucraina. I morti, secondo Mosca, sono 74. Tra loro ci sarebbero sei membri dell'equipaggio, tre accompagnatori e 65 prigionieri di guerra diretti in Ucraina per uno scambio. Per i russi sarebbero stati proprio gli ucraini ad abbattere l'aereo, mentre un altro velivolo, dopo aver visto quanto accaduto, sarebbe tornato indietro. Anche questo avrebbe avuto a bordo dei prigionieri diretti verso la zona dello scambio. Testimoni del luogo hanno raccontato di avere visto un motore in fiamme, di avere sentito una strana esplosione dietro al bosco, sul quale si è poi alzata un'enorme fiammata. Totalmente diversa la versione di Kiev che in mattinata aveva annunciato di avere centrato un cargo russo che trasportava missili. Più tardi l'intelligence ha aggiunto di non sapere nulla della presenza di eventuali prigionieri a bordo dell'Iliushin. Lo scambio previsto per oggi a Kolotilovka, lungo il confine, era stato annullato. Lo spazio aereo interessato non era stato messo in sicurezza, come accaduto nelle precedenti occasioni. Kiev sente aria di incidente creato ad arte dal nemico, un'ipotesi che sarebbe suffragata dalla mancanza per ora di immagini delle vittime e dalla pubblicazione su Telegram di una lista di prigionieri che sarebbero morti da parte della giornalista Margarita Simonian, fervente sostenitrice della guerra all'Ucraina. Ma quei nomi in parte sono gli stessi che si trovano negli elenchi di coloro che sono tornati a casa lo scorso 3 gennaio. In quell'occasione ci fu il più importante scambio di prigionieri dall'inizio della guerra, il primo dallo scorso agosto. Gli ucraini rientrati furono 230 tra loro, anche alcuni dei combattenti dell'Azovstal catturati nel maggio del 22 dopo tre mesi di difesa dell'impianto di Mariupol. Alle Nazioni Unite il ministro degli esteri Russo Lavrov ha accusato gli ucraini di atti terroristici, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza, altra benzina sul fuoco di una guerra che oggi segna i suoi 23 mesi. E anche in Medio Oriente le notizie non sono rassicuranti, anche se c'è una fitta trama di incontri diplomatici. L'obiettivo è sempre lo stesso, la pace, l'impegno, l'unica garanzia per arrivarci. Anche per questo da Beirut la posizione italiana è ribadita dal ministro degli esteri italiani che dice siamo pronti a far parte di una missione ONU per Gaza, pronti a provocare la descalation dello scontro, sono parole sue, senza che questo si allarghi a sud come a nord, anche per evitare ripercussioni, aggiunge, sui soldati italiani dell'Unifil, per poi ribadire che la soluzione del conflitto risiede nella nascita di uno stato di Palestina. Stasera tra Tel Aviv e Gerusalemme lo ripeterà ai vertici israeliani e lo stesso farà domani in Cisjordania. Ramallah Hamas ha nuovamente fatto sapere che non accetterà tregue temporane ma solo la fine totale dell'aggressione. Israele dal canto suo e pone condizioni inaccettabili, denunciano intanto i mediatori egiziani. Oggi si sono incontrati anche il presidente turco Erdogan ed il leader iraniano Raisi. Teheran chiede al mondo islamico il totale isolamento di Israele e promette di continuare l'appoggio ad Hamas ed Hezbollah, mentre la Turchia vuole stringere ulteriormente le relazioni con l'Iran e riproporsi come forza mediatrice nella guerra, che sarà lunga, ripete ancora oggi un generale dei riservisti israeliani. Nonostante Hamas sia molto indebolita, lunga come la vuole Netanyahu, che conferma nessun piano di pace, nessuna tregua, nessuna svolta dunque. Una guerra che finirà solo dopo l'estirpazione dei neonazisti, dice un altro generale israeliano. A guerra finita bisognerà riorganizzare la deterrenza regionale, poi ci si potrà occupare di tutto il resto, ostaggi inclusi. Ma la guerra deve finire, lo dice anche questo video diffuso dall'esercito israeliano con protagonisti civili di Gaza che chiedono ad Hamas di fermare la crisi in corso, stremati dopo 110 giorni di violenze. Ne hanno parlato Netanyahu e David Cameron, ministro degli esseri di sua amistà britannica, che a Israele chiede una pausa umanitaria arricchita dal termine urgente. C'è polemica in queste ore sul valico di Kerem Shalom, dove gli israeliani sia militari che civili stanno rendendo difficili gli ingressi degli aiuti destinati alla popolazione palestinese anzitutto per protesta, come quella che stanno continuando ad inscenare i familiari degli ostaggi contro Netanyahu e del suo governo. Oggi tra scontri e bombardamenti sono morti almeno altri nove palestinesi. Un attacco su canioni si è riguardato all'ospedale Nasser e un centro sfollati dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Infine gli uti yemeniti che hanno attaccato più di una nave cargo, costringendo alcune compagnie ad abbandonare la zona del Mar Rosso. Il prezzo del gas ad Amsterdam è in risalita e il Qatar annuncia che le consegne potrebbero subire rallentamenti. Prima di tornare in Italia vediamo anche cosa succede dopo la vittoria della notte scorsa di Donald Trump nella prima vera primaria repubblicana nel New Hampshire. Donald Trump batte Niki Ale 54,9 a 43,2 e vince le primarie repubblicane in New Hampshire, ma la sua rivale non si arrende e annuncia che proseguirà la corsa. Anche se ormai la strada sembra spianata verso una riedizione della sfida di quattro anni fa, Trump contro Joe Biden. A scegliere l'ex presidente degli Stati Uniti, che la settimana scorsa aveva stravinto in Iowa, sostiene il Washington Post, sono soprattutto gli elettori giovani, meni istruiti, del Grand All Party. I più anziani, i laureati, gli indipendenti, preferiscono l'ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice americana all'ONU. Nessun candidato repubblicano che abbia vinto le primarie nei primi due stati ha mai perso la candidatura alle presidenziali. Trump lo sa e ringrazia gli elettori del New Hampshire sul suo social truth, su cui torna ad attaccare la rivale definendola, senza alcun rispetto, cervello di gallina. Sconcertato dal suo rifiuto di lasciare la corsa alla Casa Bianca, The Donald va giù pesante. Nikki dovrebbe gettare la spugna, anche per non farci sprecare soldi, che andrebbero utilizzati piuttosto per l'Election Day del 5 novembre e per la riedizione della sfida con Biden. Mi congratulo con Trump per la vittoria, se l'è guadagnata, ma la corsa non è ancora finita, la prima reazione della 52enne Ali. La maggior parte degli americani non vuole una rivincita tra Biden e Trump, assicura l'ex governatrice del South Carolina, sbandierando la carta d'identità del 77enne Trump, la cui in coronazione avverte sarebbe una vittoria per Biden, visto che i democratici non starebbero aspettando altro che correre contro di lui. È lui l'unico repubblicano nel paese che Biden può sconfiggere, avverte. Ali si è guadagnata la chance di continuare a combattere e correre per il 2024. Il risultato è solido e mette in evidenza le debolezze di Trump, afferma il board editoriale del Wall Street Journal, ma per essere competitiva dovrà ampliare il messaggio e presentare la sua visione di ciò che farà da presidente. Trump invece vince, sì, ma ha di fronte una tortuosa strada legale con 91 capi di imputazione, uno dei quali potrebbe portarlo davanti ai giudici. Quindi la sua rivale può restare in corsa, guadagnare delegati e vedere cosa succede se verrà condannato, spiegano dal quotidiano. La prossima tappa, significativa per la sfidante Haley, sarà in South Carolina. Qui si gioca tutte le speranze di poter continuare a lottare. Torniamo appunto in Italia con una notizia che ovviamente terremota la politica in Sicilia perché la procura di Trapani ha disposto l'arresto ai domiciliari del deputato regionale del PD Dario Safina. I reati contestati sono corruzione e turbativa d'asta. In base alle indagini sarebbero stati commesse questi reati quando Safina era assessore comunale a Trapani. I magistrati ipotizzano l'assegnazione illecita di appalti in cambio di un tornaconto personale in termini di visibilità politica. In pratica Safina avrebbe agevolato un'impresa ottenendo per il comune lavori e forniture gratuite, così avrebbe guadagnato consenso e il suo peso politico sarebbe cresciuto. Sono sereno e chiarirò tutto, ha detto Safina, che si è autosospeso dal PD. Ma al nord, al nord-est soprattutto, si parla di due cose sulle strade e non solo, degli autovelox abbattuti e dei 30 all'ora. Due spettri si aggirano sulle strade del nord Italia, Fleximen, il misterioso giustiziere degli autovelox e la contesa sui 30 all'ora nelle grandi città. L'anonimo cui danno la caccia alle forze dell'ordine di tre regioni diventa un eroe social. Ieri notte ha abbattuto un'altra autovelox nel Padovano, il tredicesimo nell'ultimo mese. Poi il messaggio beffa alla polizia locale, Fleximen sta arrivando. E poi c'è il tema dei 30 all'ora che da giorni anima lo scontro politico tra il ministro dei trasporti Matteo Salvini e il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Oggi un documento di quattro pagine del MIT sulla deroga ai limiti di velocità nelle città è arrivato sui tavoli dei sindaci. La nuova direttiva ridefinisce alcuni criteri delle città a 30 all'ora ed è stato oggetto in mattinata di un confronto tra Salvini e Lepore in videocollegamento. Salvini ha ribadito che i 30 all'ora generalizzati non sono coerenti con le indicazioni del codice della strada e potrebbero causare più problemi che benefici. Il sindaco di Bologna ha replicato che il modello della sua città ha seguito le norme vigenti e quelle previste nel decreto firmato proprio da Salvini nel 2022 sulla sicurezza stradale e ha detto chiaro che non ci sarà nessun passo indietro a Bologna. A replicare il sottosegretario del MIT Bignami pronti a disapplicare l'ordinanza di Bologna, insomma la polemica continua. La direttiva Salvini conferma che i limiti restano fissati a 50 all'ora, i 30 chilometri sono possibili esclusivamente in determinate strade dove non ci sono marciapiedi e tanti pedoni, nei nuclei storici agli ingressi carrabili di fabbriche, asili, scuole e parchi gioco. Ci sono casi in cui sarebbe consentito addirittura alzare i limiti fino a 70 all'ora, per esempio alcune strade urbane di scorrimento. Il 16 gennaio Bologna è stata la prima grande città a diventare zona 30 ma il tema resta divisivo anche altrove. Critico il sindaco di Cesena e Lattuca, trovo che la furia di Salvini abbia partorito un topolino in questa direttiva. Quando si è andati al sodo si è riscontrato che le zone 30 sono previste dal codice della strada, di fatto ci stanno dicendo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Più cauto De Caro, presidente dell'Anci, apprezziamo l'invito del ministro Salvini a confrontarci sul testo della sua direttiva. La sicurezza di pedoni, ciclisti, automobilisti è da sempre la priorità assoluta di tutti i sindaci che sono i più titolati a valutare le diverse situazioni. Città per città conclude. Uno dei grandi fatti della giornata è stato l'addio di popolo, davvero, non per una frase fatta a Gigi Riva. È stato il funerale di un autentico figlio di Cagliari e della Sardegna, anche se era nato in continente, come si dice da quelle parti. Per l'uomo che ha regalato alla città il suo talento e la sua classe è stata scelta la Basilica di Bonaria, la chiesa più importante e sul sagrato. Si sono raccolti in almeno 30.000. 30.000 cuori che per decenni hanno battuto insieme a quello di Gigi e che si sono stretti attorno alla famiglia per l'ultimo commosso saluto. Ma è stato un funerale diverso, speciale. Tifosi di tutte le età, quelli che hanno visto in azione Gigi, come quelli che hanno sentito parlare di lui dai genitori. Una curva silenziosa con le sciarpe tese al cielo. Come silenzioso e riservato è sempre stato Riva. Oggi non hanno voluto alzare i toni i suoi ammiratori. Tanta commozione ed un mare di rosso e blu i colori del Cagliari che ha vissuto la sua stagione più bella insieme al bomber venuto da lontano e rimasto ammaliato dall'isola. Indelebile scelta di vita si legge su uno striscione come a sottolineare l'orgoglio di aver avuto come vicino di casa il più grande cannoniere nella storia della Nazionale. E non è stato un caso se il feretro è stato sorretto fra gli altri da due bandiere della squadra azzurra come Cannavaro e Buffon. Orgoglio ed estrema dignità anche nelle parole pronunciate dal figlio Nicola davanti alla bara coperta dalle magliette del Cagliari e della Nazionale. Non è andato via solo il nostro papà o il nonno ma è andato via penso un familiare di tanti sardi e di tante persone che gli volevano bene. Per l'ultima dimora di Gigi Riva è stato scelto un luogo di grande valore simbolico, il piccolo cimitero a fianco della Basilica. Dal 1968 nessuno più era stato sepolto lì. Cerimonia strettamente privata nel pieno rispetto delle volontà di un campione riservato ed orgoglioso proprio come un autentico figlio di Sardegna. Dopo di noi a otto e mezzo Lilli Gruber ospita Italo Bocchino, Massimo Giannini, Lucio Caracciolo e Flavia Truppia. Poi c'è la replica di una puntata storica è il caso di dire come tutte ma questa più storica e che più ci ricorda qualcosa di cui si è parlato anche recentemente della trasmissione di Aldo Cazzullo una giornata particolare. Si va a quel giorno di ottobre del 22, la marcia su Roma e dopo c'è un'altra replica che arriva diciamo non per sbaglio perché subito dopo rivedremo l'intervista di Corrado Augas a Lidiana Segre che è andata in onda lunedì nella torre di Babele. Ci fermiamo. Un'ultima notizia arriva ancora una volta da Montecitorio. Lì abbiamo iniziato il telegiornale con il question time e con il fuoco incrociato Schlein-Conte-Meloni e concludiamo con una notizia che riguarda il voto di fiducia che ci sarà domani dalle 19.50 e quindi ne parleremo nel telegiornale di domani per quanto riguarda il decreto energia. L'accordo tra i capi gruppo alla Camera dopo che oggi c'era stata appunto la posizione del voto di fiducia chiesta dal Ministro Ciriani a nome del Governo. Quindi domani si vota e poi ci sarà il voto finale del provvedimento. È tutto, è l'ultima notizia. Gruber, poi abbiamo detto Cazzullo e Augas. Ci vediamo domani sera. Buonasera. Grazie.